Da ieri a Gela ci sono due segretari del Partito Democratico, uno è Peppe Di Cristina, eletto qualche settimana addietro, l'altro è Fabio Colorà, 47 anni, già consigliere comunale. L'investitura è venuta ieri nel corso di una sorta di contro-congresso che si è tenuto nei locali del teatro comunale Eschilo. Una vera e propria spaccatura in seno al PD. Due segretari di un partito in una città non si erano mai visti. Io oggi ho definito questo giorno il giorno della libertà, il giorno della liberazione, il giorno della verità, il giorno in cui ci siamo detti tutto faccia e faccia, gli americani direbbero peer to peer, alla pari, ci siamo detti tutto ma non per allontanare la gente dalla politica ma per portare più gente possibile alla politica. Noi non faremo altro che traghettare, consegnare questo nuovo partito democratico ad una nuova leva generazionale che condurrà queste città ai fasti e agli splendori di un tempo. Sì ma il dato oggettivo è che a Gela ci sono due segretari. Questa città ormai è stata abituata da lunghissimo tempo ad avere due sindaci, due segretari quindi voglio dire poi come voi mi insegnate nei parti gemellari normalmente rispondete voi a me, dico nei parti gemellari il più grande chi è? Chi nasce dopo? Quindi chiaramente questo è il senso di questo congresso e questo è il senso dell'elezione del nuovo segretario. Oggi bisogna costruire un nuovo partito politico, un nuovo partito politico che riesca ad avvicinare la gente alla politica. La Commissione di Garanzia Provinciale del PD però ha rigettato il ricorso presentato dalla Larenziana, ribadendo che l'elezione di Pepe Di Cristina è legittima. La Commissione di Garanzia Provinciale ha rigettato il ricorso sulla base di una serie di elementi che ritengo che siano assolutamente inconsistenti. Io non l'ho ancora letto il ricorso, pare che sia dovuto al fatto che non ci sia stata la notifica alle persone, la notifica alle persone è stata fatta quando vengono toccati i fatti personali, come in questo caso. La decisione doveva essere presa entro alcuni termini e non l'è stata fatta. Stranamente, in maniera così, voglio dire paradossalmente stranamente, la decisione viene assunta un giorno prima di un congresso che si pone non in antitesi. Quindi, mentre c'è una parte che vuole allontanare la personale politica, noi vogliamo avvicinare la gente a un nuovo modo di fare politica. Noi siamo i tragattatori di questo nuovo Partito Democratico, un Partito Democratico che vuole restituire alla gente un nuovo modo di fare politica, un modo atto di libertà ma soprattutto di verità, che sappiamo dirci le cose in faccia per come stanno. Al congresso di di mattina hanno preso parte Giuseppe Bruno, presidente dell'Assemblea regionale del PD, ed il deputato regionale Luca Sanmartino. Al termine dei lavori Giuseppe Ferrara è stato letto presidente, fanno parte del direttivo Tiziana Iozza, Sonia Madonia, Esther Galifi, Rosario Prudenti, Andrea Darma e Sandro Di Bartolo. Rocco D'Assenza è stato nominato responsabile organizzativo.